Secondo me si può definire veramente una promozione meritata perché credo che sul campo avevamo dimostrato di essere all'altezza di poter fare il salto di Caterini, ovviamente di fatto l'avevamo già ottenuto, diciamo che si tratta semplicemente di finire il lavoro, di fatto che era stato già iniziato e portato bene avanti. Poi è chiaro che ci manca tutto quello che sono i festeggiamenti, tutto quello che era la soddisfazione dell'avere ottenuto un risultato importante perché era un risultato importante ottenuto con ragazze, tutte ragazze nostre, perciò chiaramente è un risultato che ha un valore molto più alto rispetto ad altri ottenuti in altri momenti. No, della prossima stagione non lo so, io non so come sarà, come non sarà, fra l'altro non sappiamo neanche come saranno strutturati bene i campionati, è una cosa che possiamo dire, sicuramente ma non cambieremo la nostra politica, punteremo sempre su persone giovani, su persone locali, su persone con cui lavoreremo noi, su questo non c'è nulla. Secondo me la partita è stata la prima, la prima è stata una partita, è stata poi alla fine di fatto nei conteggi la più combattuta, ma è stata la prima perché era quella che rompeva il ghiaccio come si suol dire e ci sono stati momenti in cui noi avremmo veramente potuto rischiare di perderla. Obiettivamente in altri partiti ci sono stati momenti difficili, però credo che quella sia stata determinante perché poi da lì in poi si è cominciato a costruire l'autostima e la consapevolezza di poter riuscire a ottenere il risultato in qualsiasi partita. Grazie a tutti.